Valle, dimmi del bai Valle, non ciò sei partito Peneselli Marco esterno destro e poi che mi hai chiesto per l'età l'età, è 97 Comunato Paolo del sino-sinistro 18 anni Necci Andrea esterno-sinistro 1998 Autore del bisogno Per le telecamere A parte Il portierone Qualche furto Ancora non ho capito, ve la rivede Valentino hai rubato un po' Esatto La famaglia, capito? Sì, abbiamo fatto sempre Andravirlo Esatto, ho fatto un secondo o meno Eravamo un chiaro Grazie Non ho capito! Più scherzo della prova Cucu Nator? Cucu! Cucu! Qual è? Questi sono scherzi, vabbè c'ho dubito, ho dubito al filo Chi è qua? Ma chi è? Questo è latina, torte e testo, ossia mare, cose così Guarda che piatti che c'ha Potremmo dire il freddo? Belli due Scuridio Il ciclo Il ciclo Il ciclo Il ciclo Sali Lo sai con per che poche Se dai per la legna di entro oooo 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 si vuoi giocatore? va farlo? ooo ooo ooooo oooo ooo Allora ragazzi, con 400 punti, il signor Valerio Varenzini! Portace, portace, portace al milione! Oh Valerio, portace al milione! Portace, portace, portace al milione! Quattrocento venti, Valerio Varenzini!